Outlet Divani, il più grande d'Italia! Tantissimi affari in pronta consegna nel più grande assortimento di divani in Italia. Più di 200 modelli in pronta consegna e oltre 100 divani a partire da 149 euro. Telefonate o venite a trovarci nei nostri punti vendita. Vi aspettano tante altre incredibili promozioni. Ci trovate a Varedo in via Bergamo 1, ad Assago in via Cascina Venina e ad Erba, presso il centro commerciale La Rotonda. outlet-divani.it